Ciao, sono Jacopo, ho 19 anni, ho finito l'Istituto Bertacchi Indirizzo Sociosanitario a giugno. Qualche mese fa mi sono rivolto all'Informa Giovani, poiché volevo fare un'esperienza di volontariato e gli operatori che ci lavoravano mi hanno affidato progetto PIT. In questo progetto mi occupavo di seguire un ragazzo nella ricerca telematica del lavoro e di rispondere a degli annunci online. Per chi fosse interessato a svolgere un'esperienza di volontariato consiglio di rivolgersi all'Informa Giovani con fiducia. Per chi fosse invece interessato alla ricerca del lavoro consiglio comunque di passare all'Informa Giovani perché sapranno esservi d'aiuto. Grazie a tutti.